Ha ribadito l'importanza di intervenire sulle misure di prevenzione sulla ricchezza? Sì, in senso della mia presenza qui, della nostra presenza appunto per misure di prevenzione fare una conferenza stampa piuttosto insolito, però abbiamo pensato che era importante far sapere alla collettività, far sapere ai calabresi che ci stiamo attrezzando anche sulle misure di prevenzione. Noi siamo riusciti in procura a costituire un ufficio misure di prevenzione a coinvolgere sul piano lavorativo anche per le misure di prevenzione il componente della procura ordinaria e quindi ora tutti i colleghi della procura di Catanzaro fanno misure di prevenzione, ad esempio in questo caso come procura ordinaria c'era il collega Mandolfino, un giovane magistrato bravissimo, preparatissimo che ha giurato, ha preso il servizio il 2 novembre dello scorso anno qui alla procura di Catanzaro e già ha scritto, ha costruito una misura di prevenzione come ovviamente processo cointestato, procedimento cointestato con il dottore Falvo e col dottore Romano. Era importante anche farla qui alla Guardia di Finanza, si tratta appunto di quattro provvedimenti, tutte e quattro fatti con la finanza, perché bisognava sottolineare il lavoro, il sacrificio che la Guardia di Finanza ha fatto destinando un buon numero di finanzieri ma soprattutto specializzati alla caccia dei patrimoni illegiti, dei patrimoni di mafiosi, quindi bisognava dare atto della loro bravura, della loro serietà e dedizione. In questo lavoro voi avete visto e c'è coinvolta la finanza dalla provincia di Cosenza fino qui a Catanzaro, Lamezia, il gruppo di Lamezia, quindi proprio un progetto deciso a livello centrale dal comando generale con il supporto continuo e costante dello SCICO e il generale regionale che ovviamente sta spingendo molto i comandi provinciali, i gruppi, il GICO di Catanzaro proprio sulle misure di prevenzione e voi state vedendo negli ultimi mesi quasi ogni dieci, in media ogni dieci giorni c'è un sequestro fatto dalla Guardia di Finanza e le misure di prevenzione. Questa volta addirittura nella stessa giornata ci arrivano per l'esecuzione della Guardia di Finanza ben quattro provvedimenti. Questo vi fa capire che concretamente oltre le parole e gli elogi parlano i fatti, parlano i risultati e questi sono quelli che servono a rincuorare, a caricare sul piano motivazionale gli finanzieri e i miei sostituti.